Roma è la mia casa, mi sento fortunata a viverci, ci vengono pure un sacco di turisti perché è ricca di storia, perché dove cammino io potrebbe aver camminato un re di Roma. Bisogna stare attenti però, il Colosseo pian piano si sta distruggendo ed io prima di distruggersi vorrei rivederlo un'altra volta. La trattiamo male, è sporca ed le periferie sono abbandonate. Roma è bella di sera perché vedi le stelle, a San Basilio vedi pure i murales, sono belli perché sono fatti da artisti bravi, su quell'arte invece ci sono scritte che non si possono sentire, come le scritte sulla metropolitana. Io a Roma toglierei l'inquinamento, come? Usando di più i servizi pubblici e le biciclette. Ci vorrebbe una metro pure a San Basilio e nelle periferie, altrimenti noi ci troveremo penalizzati. A Roma bisogna trovare nuove fonti di energia, renderla più ecologica e poi con più lavori e più case per chi non ce l'ha. Roma è la più bella di tutte, è sapere, anche perché ci sono tante scuole. La scuola serve ad imparare a scrivere la fantasia, soprattutto quando si fanno le gite o i progetti che ti fanno aprire la mente e di imparare cose nuove. È importante conoscere cose nuove perché il futuro siamo noi. Devo dire una cosa importante sulle scuole, mi dispiace per le maestre, ma certe scuole sono proprio catapecchie che dovrebbero sistemare. Cadono a pezzi, ci sono crepe, finestre rotte, i bagni rotti, che quelli ci servono proprio, i termosifoni che non funzionano. Che dico io, basta cambiarli. E banchi le sedie rotte? E se cadiamo dalla sedia rotta? Ci vorrebbero più l'IM per imparare meglio. Un'aula di musica, una di chimica, laboratori di scienze e di botanica. Bisognerebbe fare lezioni in giardino, lavori di gruppo. E vogliamo parlare della biblioteca? Non funziona. Ma perché? E le note e le punizioni? Non servono a niente. A noi serve un posto fantasioso. I bambini formano la scuola, perché senza di noi la scuola non esiste. È desertica. La scuola è un portale che porta da tutte le parti. Un seme che se lo pianti diventa un fiore bellissimo. Ci permette di avere conoscenza della vita e di imparare dagli altri. È un labirinto e devi trovare la strada giusta. La scuola è come una formica. A tutti sembra piccola ed insignificante. Invece è grande, perché sa un sacco di cose. E viva la scuola!